eccoci bentornati allora abbiamo vinto questa partita benissimo tornati finalmente finalmente abbiamo visto un grande Napoli grandi giocatori grande divertimento facciamo commentare tutti prima il tweet di Laurentiis prima di tutto che vi avevo detto da Bologna siamo veramente ripartiti conferma se stesso cade sempre e poi altra bella notizia è finita a Milano 2 a 1 del Sassuolo e questa è una grande notizia il presidente ha fatto un'interconnessione logica deduttiva ma veramente ha scritto così o è uno scherzo tuo? te lo giuro se era sua era una battuta no ma veramente sarà un fake no no te lo giuro bellissimo ci sta lui ha voluto anche sottolineare la sua pena profetica no è incredibile che vi avevo detto che vi avevo detto comunque prima ho chiesto le gare che ci sono perché chiaramente tranne il big match con Real Madrid dove però io sono molto fiducioso ve lo dico da dove per quale? io non ho mai amato con Real Madrid io non sono molto tifoso di Ancelotti perciò scherziamo sempre con Antonio Giordano il lunedì che lui è amico ed estimatore di Ancelotti che è un grandissimo tecnico però dico il Napoli potrebbe fare veramente un filotto il filotto adesso nelle prossime tre con la ciliegina sulla torta questo fiocco di un risultato positivo con Real Madrid speriamo bene sarebbe meraviglioso Italia Italia lì fuori al campo ci sei? grazie allora c'è certo c'è un grandissimo entusiasmo qui all'estero del Maradona così come c'è stato all'interno del nostro tempio soprattutto ad un certo punto dalle curve si è alzato un coro bellissimo i campioni dell'Italia siamo noi stasera si sono ricordati si sono ricordati i ragazzi in campo e hanno trasmesso questa atmosfera da campioni a tutto il Maradona era tempo che non si assisteva ad uno spettacolo del genere ma soprattutto è la serata di Vittorio Simen e di Kviciak Varaschelia cominciamo subito a sentire le voci dei nostri ospiti ciao buonasera ragazzi questa sera oltre la vittoria che comunque sia fa piacere mi ha fatto tanto piacere di vedere il gruppo come era l'anno scorso è sembrato di vedere la squadra l'anno scorso hanno seppellito l'ascia di guerra a tutti i giocatori e abbiamo dimostrato di meritarci il ruolo di campioni in carica sono d'accordo con l'amico a un certo punto si è visto il Napoli dell'anno scorso ma il miglioramento secondo me già si è iniziato a vedere a Bologna stasera non trova il miglioramento come si è visto l'Inter ha perso con il Sassuolo che a sua volta ha perso a Napoli quindi in Napoli sta in miglioramento mi fa piacere che ha segnato Simen, Aschera, Zelischi, Simeone quindi ha ragione che sia quando dice abbiamo tutti quanti sulla panchina e devono ruotare tutti quanti secondo me ha ragione devono giocare tutti ma scusate stasera ragazzi quanto avete visto del vecchio Napoli e quanto invece non c'era del Napoli che voleva raccontare Garzia li abbiamo sfondati ha detto però io ho fatto una domanda mi ha sentito, ha sentito, ha visto la differenza tra il Napoli che abbiamo visto nelle settimane scorse e quello di stasera era tornato a giocare come ai tempi di Spalletti io direi più di qualche sprazzo abbiamo rivisto un Napoli che sa giocare con dei codici che conosce e molto poco di quello che voleva proporre Grazia tanta grinda e molti spazi di Spalletti grazie vorrei dire una cosa spero che a Udine abbiamo preso il tricolore con l'Udinese a Udine abbiamo preso il tricolore e oggi a Napoli contro l'Udinese ricominciamo quella grande cavalcata che ci ha portato allo scudetto forza Napoli ovviamente sì è tornato al golo Simen è corso verso la panchina ma non ha abbracciato Garzia ma Lindstrom è stato un segnale che insomma abbastanza evidente però poi alla fine della partita no alla fine della partita quando è stato sostituito ha dato la mano serenamente al suo allenatore tutto passato? credo di sì sono cose di campo speriamo che tutto si risolva al meglio e per il bene del Napoli forza Napoli sempre che vara è tornato al golo aspetti dove va resti con me che vara è tornato al golo aveva preso anche un palo clamoroso pochi minuti prima non segnava da marzo del 2023 è importante averlo ritrovato anche come goleador certo sicuramente è un giocatore importantissimo per il Napoli secondo me il migliore è ricominciata ragazzi è ricominciata la corsa per lo scudetto sì ma per me non è mai finita è finita abbiamo avuto qualche intoppo però è ancora lungo il campionato mancano più di 30 partite ci siamo anche noi siamo sempre stati nell'anniversario delle quattro giornate di Napoli c'è stata la liberazione dagli incubi del passato sembrerebbe una coincidenza importante sì c'è stata la liberazione soprattutto di Quara possiamo dire che è il capo di questa liberazione che quando ha segnato un'energia sotto la curva veramente importante pure Simeone quindi siamo contentissimi siamo contentissimi forza Napoli sempre grazie linea allo studio a dopo quindi 500esima vittoria del Napoli oggi era un appuntamento che mancava oh mi sbaglio sì dovrebbe essere ho letto che è così in era dell'Aurentis solo Matti il verbo il verbo qua no è perché no tra le altre cose hai così l'unico che ha la connessione tra le altre cose sì 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 oggi come ricordava Italia e al tifoso che stava intervistando Quara non segnava da marzo quindi è uno dei dati fondamentali cioè non soltanto è tornato al gol ha sfoderato una versazione fenomenale veramente dal Quara che abbiamo imparato a conoscere e ad amare l'anno scorso un assist si è procurato il rigore quindi diciamo che è stata anche la partita che ci voleva per lui e per il Napoli sì secondo me è la partita di Quara oggi sì decisamente anche se tutto il Napoli insomma ha giocato benissimo e trovare un solo interprete è un solo dei giocatori insomma che è stato il volto di questa partita è difficile perché veramente tutti ci hanno messo d'oro contributo ma anche l'approccio alla gara ragazzi a primo minuto secondo me ha fatto la differenza proprio cioè un Napoli così aggressivo non l'abbiamo visto in questo campionato no forse a tratti anche nelle partite precedenti ma stasera per almeno 80 minuti il Napoli ha giocato con un'aggressività che veramente fa paura ho preparata bene e interpretata meglio è stato tutto perfetto diciamo che paradossalmente poco incide il valore dell'Udinese che oggettivamente non è eccelso e la classifica ha insomma ad avere una fisionomia più gradevole siamo passati al quinto posto sì e beh dai campionato lungo ragazzi sì molto lungo Italia ripeto il concetto di prima non ci sono questi grandissimi avversari che possono puntare dritti a una vittoria del campionato ragazzi la Juve degli scudetti consecutivi oramai non c'è più puoi trovare la squadra più in palla in una stagione meglio attrezzata ma non c'è più quella ammazza campionato quindi è un campionato che si giocherà fino alla fine e se facciamo il Napoli con la rosa che ha a disposizione il mister e con il tempo che riuscirà a doleare meglio i meccanismi a creare più gruppo a creare più sintonia secondo me possiamo veramente puntare a un altro grande risultato andiamo al telefono che ci chiamano da casa pronto ciao felice buonasera 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 allora signor Bosco l'Udinese non è scarsa prima poi io li avevo impallati le altre partite stasera ho visto il vero Napoli aggressivi tecnici che quara che osimenti a tutti tutti questo è il vero Napoli da oggi in poi questo sarà il vero Napoli attenta poi Bosco i nove scudetti che ha vinto la Juve a dare inganziare che non c'era il bar ciao Napoli 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 portano a questo portano all'unione del gruppo a dimenticare magari anche qualche stupidaggine credo che sarà importante sentire la conferenza stampa che Garzia stasera avrà da dire credo che si sbilancerà ora si è tenuto queste volte tu dici no troppo intelligente come uomo un uomo troppo intelligente ma secondo me parlerà un po' di più però stasera sì però non uscirà fuori dalle righe non si può sbilanciare non si toglierà sassi dalle scarpe ma non è polemico ma è anche giusto che non lo faccia ma non è stato polemico in questi giorni dove c'era tutta la insomma c'era tutto il materiale per fare polemiche e non le ha fatte però credo che stasera insomma qualcosa in più ce la dirà diamo linea a Italia così magari commentiamo la pagella anche con i tifosi che sono con lei fuori allo stadio Italia ci sei? assolutamente sì e come abbiamo anticipato prima oggi è una giornata di svolta perché non è soltanto il risultato importante 4-1 insomma ritornare alla goleada cosa che mancava a questa squadra ma è soprattutto una squadra che convince perché gioca in maniera assolutamente inaspettata viste le prestazioni precedenti allora dobbiamo fare la pagella io vi coinvolgerò cominciamo ovviamente dal portiere dai un voto a Meret 7 perché onestamente è stato poco compreso però quando è stato incluso comunque l'interno dell'azione ha fatto il suo ti sentiamo male Italia abbiamo perso il collegamento va bene sì ci andiamo dopo da Italia commentiamola noi qui in studio la pagella Salvatore partiamo da te che non partiamo da te scusa ogni tanto ci siamo e dobbiamo fare tutto noi fai qualcosa pure commenta pure tu il 6 di Meret scusa mi sei d'accordo con questo 6 di Meret no sinceramente no qualcosa in più io gli avrei dato qualcosa in più ma non è che è stato proprio impegnato così tanto a parte il gol che ha subito non per colpe sue non per colpe sue come dice Cristana perché la partita comunque si è svolta sotto la porta della squadra avversaria però comunque il gol che il Napoli ha subito è stato un gol io per dargli un valore avrei messo senza voto sì tipo un bellissimo gol l'ha subito no dai non classificato esatto ma non per colpa sua l'ha subito bene dobbiamo dire che oggi ha fatto veramente non è stato impegnato quasi mai il gol non poteva nulla però io voglio dire Gennaro Giezzo Gennaro Giezzo ha fatto il suo gol facciamolo commentare la pagella è tua io l'ho fatta la pagella sai perché giustamente è stato impegnato pochissimo stava quasi mettendoci una pezza sul gol però diciamo che stasera è stato rilassato ha passato una serata molto tranquilla facendo il suo come al solito poi abbiamo Di Lorenzo 7 Di Lorenzo ragazzi soprattutto nel primo tempo ha chiuso tutte quelle situazioni un po' particolari che ogni tanto Ludinese ha cercato di di creare per mettere in difficoltà il Napoli ma da grande giocatore che è da grande lettore di giocate è stato è stato bravo è stato un po' Pavaro Gennaro perché io per esempio ai quattro e la linea difensiva avrei messo uno 0,5 in più Lorenzo 7,5 perché chiaramente sopra le righe gli altri tre dico 7 perché sul gol secondo me potevano fare qualcosa in più perché quanto ti parte uno così l'hanno fatto entrare fai un fallo tattico lo butti a terra ti becchi la punizione ti rischi sulla punizione ma non lo metti davanti ma si può dire che è figlio anche del largo vantaggio potrebbe anche essere quello però sai quando tu sei la bravura di Samard però ragazzi lì si va si fa fallo parte da Anghissà perché Anghissà era il primo doveva fare qualcosa però quando arriva lì quella zona i due centrali no io sono d'accordo con i vari sei e mezzo perché poi alla fine la difesa del Napoli è stata impiegata comunque poco per quello che ha fatto si è comportata bene abbiamo visto in generale anche se l'udinese ha creato poco i movimenti sono stati giusti sono stati equilibrati quindi il sei e mezzo ci sta forse non lo so se è anche il pensiero di Gennaro che ha fatto la pagella proprio per il poco impiego in questa partita poi c'è il centro campo Anghissà sette e mezzo Lobotka sette e mezzo otto Zelinski ragazzi penso che il centro campo stasera sia ritornato quello che conosciamo tutti quanti tutte e tre ma tutti e tre forse non me lo ricordo una prestazione di altissimo level dei tre centrocampisti molto spesso Zierlinski si perdeva anche l'anno scorso ma condividiamo il voto ma i centrocampisti stasera hanno fatto la differenza ragazzi Politano Politano otto Simen sette e mezzo Quara nove meritatissimo vabbè hai da commentare questi risultati Politano 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 grande partita ha messo davanti ha dato là i gol penso di su due gol penso ci sono stati due assist sui se non erro o no uno uno solo però prestazione di alto livello di Politano Osimè è tornato al gol sperando che questo gol gli dia un po' più di serenità cercando anche di magari di spiegare quella 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 brutta uscita sui social togliendo le foto con le maglie del Napoli spero che lui abbia magari un attimo il coraggio di chiedere anche scusa al popolo napoletano che lo ama sarebbe bello che lo ama lo ama tanto le aspettava magari arriveranno in privato e ci sarà in Italia e poi c'è una telefonata devi togliere una curiosità Italia chiedi a questo ragazzo che vuole fare da grande perché mi sembra molto preparato vero sì Egidio è un vecchio amico di Canale 8 è anche venuto a trovarci nei nostri studi diciamo che è una mia scoperta qui all'esterno del Maradona ho individuato secondo me un predestinato allora Egidio vieni apprezzato anche da Patrizio Rispo che immagino tu voglia salutare e ringraziare ma torniamo alla partita si parlava di Natan una prestazione ordinata ma anche secondo me di carattere sì innanzitutto ringrazio prima dell'intervento che farò però come hai detto tu l'aggettivo perfetto è ordinato perché non è stata sempre presa in causa per un lavoro impeccabile del centrocampo perché il baricentro è stato sempre piuttosto alto poi siamo abbassati un po' abbiamo preso anche il gol tra udinese però abbiamo fatto una bella partita in difesa solida come detto tu ordinata perché comunque siamo stati poche volte poche volte in causa però quando sono capitate delle situazioni difficili i difensori sono sempre fatti sentire anche perché contro l'attacco dell'udinese che non è più un attacco fisico perché sono senza abito ma più un attacco tecnico contro O.N. lì davanti era difficile gestire la partita e Natan e Osticard ce l'hanno fatta veramente veramente bene soprattutto Natan per cui secondo me è stata fatta una preparazione fisica apposita per lui perché veniva da ritmi diversi del campeonato brasiliano non entriamo nei dettagli della preparazione fisica perché comunque Natan è arrivato in Italia che aveva giocato le partite diciamo che forse i discorsi sono stati più che altro tecnici ma ormai il passato lo metterà pensiamo al futuro voglio sentire da te una valutazione dell'ingresso di calciatori come Cajust ma anche Lindstrom giovani forti con tanta fame sì per una volta mi sapeci di molto i cambi che ha fatto il mister Garcia grande rispetto alle altre partite Lindstrom un grande gioiellino sarà un crack come Cavaraschella un'unica cosa noi napoletani vogliamo troppo e veloce le cose bisogna andare con calma il campionato è ancora lungo l'Inter ha già fatto un passo falso e bisogna approfittarne un'ultima cosa per chiudere bisogna onorare questo scudetto fino all'ultima giornata direi che la saggezza di un ragazzo è assolutamente consolatoria in un periodo invece nel quale i giovani vengono tacciati di essere soltanto superficiali e con la voglia di arrivare subito quindi complimenti anche a te l'ultima battuta te la faccio fare perché sei qui in paziente attesa avvicinati non aver paura sono dolcissima Victor ormai ha messo tutto alle spalle secondo te sì certo allora stavamo parlando Patrizio i voti no mi sembra tutto meritatissimo sì Garzia sette e mezzo Simeone è tornato a timbrare il cartellino appena viene chiamato in causa e questa è una cosa importantissima come l'anno scorso aveva una media realizzativa rispetto ai minuti giocati molto alta tra le più alte d'Europa questo è fondamentale Genna tu hai commenti da fare no le ho fatte io le ho fatte le faggelli le faggelli penso che a chi no ebbè ma la calligrafia non è a te io voglio il commento sul sette e mezzo io voglio il commento a Simeone no a Garzia Garzia perché stasera il Napoli ragazzi ripeto per me questo non è il Napoli dell'anno scorso ho visto cose diverse che mi sono molto piaciute e spero che da da stasera il Napoli riesca a regalarci sempre delle prestazioni del genere anche per secondo me come dire come un riscatto diciamo mi fa piacere il sette e mezzo a Garzia perché è uno delle poche voci lo debbano anche all'allenatore se è una delle poche voci che attribuisce a Garzia anche la vittoria quindi non lo sai cos'è perché penso che lui si è messo davanti a fare lo scudo per questo periodo un po' particolare del Napoli e io penso che non era soltanto l'unico colpevole della situazione che si era venuto a creare però lui da giustamente da allenatore si è preso tutto quello di negativo c'era addosso a lui abbiamo una telefonata sì abbiamo una telefonata pronto? 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 buonasera buonasera senta volevo dire è stata una grande prestazione del Napoli prese? pronto? si autodistrutta sì non sentiamo bene sì dica dica pure si sente? sì si si sente? si allontani dal televisore ci deve ascoltare dal telefono e non dal televisore esatto sono lontano dal televisore ok allora volevo dire una cosa abbiamo visto un grande Napoli stasera però abbiamo visto la copia autentica del Napoli di Spalletti io credo in mala fede lo dico secondo me c'è stata una telefonata di Spalletti nello spogliatore al secondo tempo dice ragazzi la squadra nostra è un'altra non è questa qua che ci mostra García può essere capitale può essere capitale il Napoli il Napoli ha dimostrato di sapere giocare anche senza allenatore ma non è vero no 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 state sbagliando tutto tutto state sbagliando tutto no non va bene no 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 García è stata dalla Lampia Saudita ha preso un secondo posto quando giocava Tossi quando giocava dei russi quando giocava no no ha vinto uno scudetto in Francia è arrivato in semifinali di Champions con una squadra che si chiama Lione quindi non si chiama né Bayern Monaco né Real Madrid ma quanti anni fa? finale di Europa no che quanti anni fa? tre anni fa ha scudetto in Francia perché proprio la Francia sappiamo il francese che cos'è non è così vi ricrederete vi ricrederete chiaramente Spalletti ha lasciato il segno ha vinto lo scudetto tante belle cose quindi la delusione delle prime gare negative dovevate trovare un capo espiatorio chi è l'allenatore nuovo? perché tutti tutti asserivate i giocatori sono gli stessi che cos'è che non va? è l'allenatore insomma era un pensiero un po' semplicistico quando sei ricombattata nello spogliatore ha deciso di giocare come sapeva giocare senza applicare gli schemi ha capito che o segue l'allenatore o vanno fuori questo è successo è il contrario è il contrario ma non conviene neanche l'allenatore che la squadra vada fuori quindi la squadra ha preso coscienza e gioca come sa giocare questo è il problema vanno fuori nel senso che si siedono chi non lo segue si siede perché il mister ha dimostrato che ti sostituisce o ti cambia qualunque sia il tuo nome e qualunque cosa tu abbia fatto negli anni passati questa è stata una dimostrazione di forza e ha ripreso le retini perché se si fosse dimostrato debole oppure assoggettabile agli umori dei calciatori stia ben certo che avrebbe perso di mano la squadra siamo con Cristian credo che il segnale è migliorato possiamo avere Italia grazie per questo intervento Italia eccoci Italia ora ci sei in questo momento le inquadrature si ci sono sono rivolte verso i van che escono dal sottopasso del Maradona che porteranno ma i vetri oscurati nascondono un po' la visuale sicuramente personaggi VIP del Napoli ma a noi piace parlare con i tifosi invece e quindi coinvolgiamo questo nostro amico che sta scappando no perché lei ha un problema a parlare allora io le faccio una domanda e lei sicuramente mi risponderà in maniera molto molto in studio si è aperto un dibattito tra chi ritiene che la squadra sia andata un po' per conto suo ritrovando i vecchi codici spallettiani e che invece evidenzia il fatto che dietro questa vittoria ci sia la mano di Garzia un punto d'incontro dove vogliamo trovarlo? io penso un punto d'incontro troveremo che spalletti praticamente ci ha messo la sua mano e che se non era per spalletti in passato ma io parlo di stasera stasera secondo me l'ha messo una manina però stati telepaticamente diciamo si si è messo in preghiera si brava sicuramente si è messo in preghiera perché spalletti cioè che sia è andato in difficoltà è andato in difficoltà tipo lei insomma diciamo così stasera va bene va bene invece tu non vuoi parlare no sei misterioso tu perché che paura hai ma come siete così pronti a parlare sui social a scrivere hai la possibilità di raccontare le tue emozioni è stato bello ritrovare il Napoli bellissimo Napoli stasera mi è riuscito il Napoli dell'anno scorso allora rispondimi tu secondo te c'è molto di Garzia o una ricerca da parte della squadra dei vecchi codici no ancora non mi convince ancora Garzia sembrava il Napoli di Spalletti mi è sembrato poche diciamo delle cose che voleva mettere in campo Garzia si sono viste stasera secondo me sì ancora i meccanismi dell'anno scorso lo botto che ne ha toccati i palloni lo botto stasera grande partita come l'anno scorso è tornato Natano bene Cavara bene di nuovo Osimena bene tutti bene stasera Osimena insomma è tutto cancellato no no è nera la situazione non mi convince va bene grazie grazie ragazzi linea allo studio dopo c'è Italia anche perché abbiamo la prima dichiarazione di Cavara abbiamo le parole di Cavara Schelia a Dazon dove dice di sicuro il gol mi è mancato ma nello sport nulla è facile sono felice di essere tornato a segnare dopo sei mesi ed è normale che dopo sei mesi che non segni diventi nervoso non so cosa sia cambiato in questi giorni non vincevamo dalla partita con il Sassuolo e ci siamo parlati con l'allenatore e ci siamo detti che dovevamo tornare a giocare in questo modo come abbiamo fatto oggi sì io e Osimène siamo tornati ma non importa chi segna la cosa importante è che il Napoli vinca bravo ha riparlato del gruppo della cosa fondamentale ha riparlato del gruppo siamo parlati con Garcia bravo hanno parlato con l'allenatore perché hanno capito che è tos ci allineiamo o non andiamo da nessuna parte secondo me anche l'allenatore è venuto un po' a patto chiaro ma c'è sempre in un dialogo presuppone un punto d'incontro tra le parti e quello che non mi era piaciuto di Garcia nelle anche sue prime uscite da quando è arrivato a Napoli è questa sua diciamo tra virgolette presunzione di voler non continuare con il passato posizione esatto per dare la sua impronta fin da subito e invece se perché qualcosa anche io l'ho visto del Napoli di Spalletti ma proprio la coesione di gioco l'intesa tra il gruppo l'intesa dei giocatori la facilità con la quale si trovavano in campo l'ho rivista stasera e quella sicuramente fa parte non tanto del Napoli di Spalletti ma di un Napoli che viene da un campionato quindi da quell'ossatura che ha il Napoli in sé in questo Napoli di Garcia quindi il conoscersi il conoscersi la cosa positiva è che io spero che Garcia veramente perché tu ho detto riprenda le redini io le prenda perché in realtà fino a questo momento non le ha avuto come riaggressione le riprenda le prenda oramai ci ho avuto a me capito le prenda per la prima volta e dia un segnale anche diverso quando poi si proporrà la stampa e parlerà e dia un segnale diverso anche dalle parole che userà perché secondo me è importante anche questo perché lui fa da scudo però è anche il portavoce poi dopo della squadra ed è importante che dia il segnale giusto stasera beh non ci resta che aspettare la conferenza stampa fra quanto fra quanto arriva quanto manca non si sa arriva a sorpresa non c'è mai una tempifica certa mai però come è strano vedere dopo una attraversazione del genere si ritorna a parlare di Spalletti si è incredibile ma a me mi fa io non ci riesco a sentire delle cose ma perché tu sei un allenatore hai fatto il giocatore se ne ha detto il lavoro è chiaro che hai ragione abbiamo visto no adesso Spalletti questi giocatori stavano anche tre settimane fa andavano a due all'ora stasera andavano a mille all'ora e hanno fatto la differenza ma potrebbe essere anche un discorso di preparazione allora questo non lo sappiamo questa squadra stava settimana scorsa a giocare non ha fatto questo due settimane fa non l'ha fatto questo ma García se vedi su Quara l'ha detto dice io sono stato contento che ha fatto due gare consecutive con la sua Georgia perché significa che si acquistano un ritmo un minutaggio che ce lo farà trovare più pronto per le gare di campionato e così è stato ascoltavo Gennaro sulla questione Spalletti purtroppo noi siamo prigionieri di Spalletti siamo prigionieri di uno scudetto arrivato dopo 33 anni con un allenatore e un gruppo che hanno stracciato il campionato tu hai vinto il campionato con 5 turni di anticipo sarebbero potuti essere anche 6 se Dia non avesse segnato quel gol dell'1-1 contro il Napoli Salernitana ma purtroppo ci portiamo questo allenatore la speranza qual era? è che Napoli potesse avere così come successe l'anno scorso tra Kimme e Koulibaly quanti di noi pensavamo ci dovremmo rimpiangere Calidù perché con Kim ma quando mai la Corea hanno saputo giocare a pallone quello è venuto ha giocato a calcio e noi Koulibaly non lo abbiamo mai rimpianto come non abbiamo mai rimpianto in signe perché Cavara ha fatto vedere Gran Toro ma quando è a Giorgio se ne occupa lì anche in quel caso e quindi la speranza era quella di avere almeno dei risultati purtroppo Napoli da quel punto di vista non si è espresso a grandi livelli è stato anche sfortunato stasera l'ha fatto è naturale che torna in mente Spalletti e con il passare del tempo sparirà anche Paragone tra due calciatori ci può stare nell'immediato dopo 4-5 partite perché comunque è la conferenza stampa dell'allenatore dell'Undinero eccoci allora queste sono state le parole dell'allenatore parole misurate ma c'era poco da dire molto lucido Patrizio molto lucido sottile oltre a essere un grande professionista è un uomo molto intelligente ha riconosciuto i meriti del Napoli che è stato stratosferico stasera chiaramente qualche piccola giustificazione l'ha dovuta trovare perché un giornalista gli ha chiesto come mai questa differenza rispetto al calcio dell'anno scorso lui ha evidenziato che sono cambiati ben 16 giocatori in più il terminale offensivo è andato via a Beto che era diventata una certezza avendo dimostrato il suo valore del campionato italiano l'hanno sostituito con un giovane di belle speranze che è il Lucca e sul quale io punto tanto anche per il futuro della nazionale italiana ma infatti dobbiamo andare da Italia che con un ombro perché poi ci sarà la conferenza stampa scusatemi Italia eccoci è ancora fuori grutto attenzione sì allora io ho un ospite veramente speciale perché questo signore che vedete alla vostra destra viene dalla Nuova Caledonia la Nuova Caledonia è insomma uno stato di pertinenza francese che si trova vicino all'Australia ed è stato durante i festeggiamenti dello Scudetto il punto più distante da Napoli dove si sono esposte bandiere e tricolori lui si chiama Andrea Andrea è un grandissimo un grandissimo appassionato di Canale 8 segue tutte le nostre trasmissioni e devo dire ci apprezza tantissimo nel frattempo vedrete la telecamera che si muove un po' perché le forze dell'ordine ci hanno chiesto di spostarci per far spazio ad una macchina che sta passando va bene così Phil Pelliccia ti puoi fermare allora raccontaci come si fa ad essere tifosi del Napoli in Nuova Caledonia essere tifosi del Napoli in questo periodo è una grande gioia perché fortunatamente è una vera figata secondo me ce la siamo goduta e eravamo il posto più lontano del mondo dove si è festeggiato noi ci siamo sentiti un po' soli perché vedevamo che il mondo impazziva e comunque ne abbiamo fatto il nostro abbiamo cantato abbiamo supportato ed è stato molto bello cerchiamo di trasferire la nostra fede ai più piccoli Elliot si ti piace il Napoli? tantissimo parli benissimo italiano? si il giocatore preferito? Kvara Schelia Kvara Schelia oggi sei arrivato e il Napoli si è ripreso quindi porti bene mi sa che devi restare un po' di più a Napoli oltre il 9 ottobre si vuoi tornare a vivere qui? si bene abbiamo acquisito un altro un altro cittadino napoletano insomma prima di salutarti una battuta su quello che hai visto stasera perché insomma pare che la svolta ci sia stata credo proprio di sì è stato un grande match anche il risultato ma soprattutto la pluralità di coloro che hanno segnato hanno segnato tutti ci mancava il gol di Kvara Schelia è arrivato è arrivato quindi via ora senza fermarsi con tranquillità mi è piaciuto anche il Nathan l'ha adorato ma tutti quelli che sono entrati sono stati folgoranti dicevo mi è piaciuto anche lo striscione della curva A in cui si invitava a non fare troppi commenti secondo me è giusto dobbiamo dare un po' di tempo e un po' di tranquillità alla squadra che si deve comunque riorganizzare fantastico allora io ti saluto ti ringrazio e a questo punto direi che possiamo darci appuntamento per il quarto scudetto del Napoli di buono auspicio un abbraccio un abbraccio a tutti siete fantastici un po' meno cristiani avevamo una dichiarazione di ignoranza che non eravamo sicuri di dove fosse la nuova Caledonia Polinesia e poi volevo sapere lui che ci faceva in nuova Caledonia che la nuova Caledonia ci aggreghiamo anche noi se ci si dica c'è da fare c'è da venire lì la nuova Caledonia non ci sente più ci sente Italia? si sta sentendo Adriana verifica ma non sentiamo lei cerchiamo dove la nuova Caledonia ha conosciuto la compagna no aspetta a posto che lo voleva sapere? quindi è una nuova Caledonese la compagna ma è Polinesia? sì è una nuova Caledonese è una nuova Caledonese e assolutamente sì per amore si è trasferito in questo posto lontanissimo da Napoli ma nel quale ha portato tutta la sua passione come avete visto ha due ragazzi e che farà si trova a pochi chilometri da Sydney è un imprenditore e vive lì dopo che insomma ha creato una nuova famiglia si è inserito in un territorio così lontano dal nostro si è vicino all'oceano ma nel quale ha messo radici è un'isola a largo dell'oceano è un'isola di pertinenza francese dei pressi di Sydney come ho detto ha portato la passione e la lingua e la vita napoletana anche così lontano bene lo andremo a trovare un personaggio incredibile e grande appassionato di Canale 8 grazie Italia bene andremo tutti in Nuova Caledonia tutti in Nuova Caledonia possiamo chiediamo ai fratelli romani di organizzare un viaggio premio bravo in Nuova Caledonia facciamo una puntata speciale da lì andremo a festeggiare lì il prossimo scudetto tutti quanti che dire più allora stiamo in Cassani in Caledonia perché ci seguono da là stiamo in Cassani infatti chissà quanti ascoltatori ci seguono sarà lui Italia l'abbiamo lasciata possiamo salutarla ciao Italia grazie allora ragazzi io vi saluto e a questo punto ci diamo appuntamento tra pochissimo perché sabato alle 15 si gioca a Lecce e noi saremo lì in Salento per raccontarvi Lecce e Napoli ciao buon viaggio grazie Italia un vaso no però scusa se diventiamo a Lecce non è in Salento è in Scentento è in Scentento ha ragione ha ragione la prima russa la Caledonia e poi veniamo meno su queste cose aspettiamo la conferenza di García insomma vabbè il tema in attesa della conferenza di García il tema rimane sempre quello non riusciremo facilmente a liberarci del paragone Spalletti e questo sarà brutto anche umanamente nei confronti dell'allenatore ma proprio per la città Patrizio lo sapeva nel senso nel momento che arrivava in Napoli sapeva di ereditare una panchina pesante sì però io mi sono anche sorpreso perché fino a una settimana fa due settimane fa la città era al fianco di García poi il Bologna ha destabilizzato un po' quella cosa forse prima il Genoa Genoa e Bologna hanno cominciato a scendere è una Lazio è la dura legge del calcio la fa da padrone il risultato purtroppo quando non arrivano i risultati ma stasera è arrivato comunque ci sta gente che dice è arrivato perché abbiamo giocato con la formazione di Spalletti no è la formazione di García sì perché perciò prima ho fatto la domanda a Salvatore García perché i media hanno battuto molto su questo tasto colpevolizzando ingiustificatamente questo allenatore dopo solo 4-5 partite ma è fisiologico una tempistica per metabolizzare un nuovo concept di calcio e forse la colpa è proprio dei media i media doveva contropatria all'umore della città dovevano dare una lettura più razionale della cosa ci sono dei messaggi c'è Francesco che chiede a Bosco e a Ghezzo mi dite qual è la differenza nelle partite scorse lo Botka come giocava Anghissà come giocava io stasera non ho visto più il distacco attacco e difesa vorrei credere quello che dite ma che García ha cambiato gioco si è visto altrimenti abbiamo giocato contro una squadra che è la più scarsa che ci sia grazie e non è così no no è così allora poi lascio la parola a Gennaro sicuramente non possiamo negare che nelle prime gare prima della gara di Bologna attenzione si era visto un dato preoccupante che era il distacco tra i reparti perché questa la filosofia del calcio di mister García qual è squadra compatta ma dietro la linea della palla ripartenze fulminie e verticalizzazioni con gli attaccanti i giocatori d'attacco che vanno ad incrociarsi e con gli inserimenti dei centrocampisti chiaramente tutto diverso rispetto alla manovra avvolgente di mister Spalletti che attraverso delle trame e poi delle improvvisi accelerazioni andava a tessere lo sviluppo della manovra offensiva quindi è un altro concetto lo Bottica era il perno del gioco del Napoli l'anno scorso tanto è vero che le squadre avversari si diceva in gergo fanno la partita sullo Bottica cioè cercavano di ingabbiarlo bloccarlo rompere la fonte di gioco passava tutto per lui e questo passare tutto per lui lo portava anche spesso e volentieri ad alleggerire a smistare qui no non hai questo tempo con Garcià devi ricevere palla due tocchi e giocare in verticale allora permettete che è vero che c'è stato un ritiro e delle amichevoli ma un gruppo che ha lavorato due anni nella stessa maniera gli volete dare una tempistica minima per entrare nei nuovi concetti questa è una cosa più semplice del mondo il calcio è semplice facciamo rispondere il mister e poi andiamo al telefono ma il discorso è che sicuramente stasera abbiamo visto una squadra corta ma giustamente andando a pressare in alto rispetto a prima però io penso che stasera rispetto alle altre partite l'Obottica abbiamo visto l'Obottica dell'anno scorso perché non è stato mai pressato dall'Udinese cioè ci è stato dato libero praticamente gioco di girarsi ha fatto tutto quello che voleva invece nelle altre partite abbiamo visto praticamente una marcatura uomo come abbiamo visto anche negli altri passaggi ma quello che abbiamo visto stasera rispetto a quello che abbiamo visto l'anno scorso con Spalletti sono stati questi inserimenti che secondo me hanno fatto la differenza stasera gli inserimenti dei centrocampisti alle spalle della linea difensiva come diceva prima Bosco giustamente il Napoli di Spalletti era una squadra che andava molto sulle catene esterne stasera abbiamo visto altre cose stasera abbiamo visto degli inserimenti anche centralmente dei centrocampisti non abbiamo visto nel Napoli di Spalletti per questo io dico che stasera è stata più la squadra è stata più il gioco di Garciano rispetto a quello che è stato l'anno scorso di Spalletti è importante ribadirlo e farlo anche notare poi ai tifosi che magari hanno visto il gioco per la prima volta bello e avvolgente del Napoli e magari non riescono a notare le differenze che sono evidenti e come abbiamo detto prima i centrocampisti sono stati proprio tutti quanti i protagonisti hanno giocato tutti e tre una partita ad altissimi livelli come ha detto prima Gennaro a volte capitava che uno dei protagonisti del centrocampo poteva magari lasciare un po' più insoddisfatti invece Zelinski Anguissa e Lobotka hanno veramente giocato bene tutti e tre tra le altre cose appena visto su Instagram un post molto bello di Juan Jesus dedicato a Nathan dicendo bravo fratello perché è stato veramente bravo ed è importante che senta anche il supporto non soltanto della squadra ma anche del reparto difensivo quindi è stato bello questo post e spero che tutti quanti riusciamo a dare il tempo anche a Nathan di dimostrare quello che è sono connazionali quindi sì 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 infatti è importante che sia poi un brasiliano a dargli quella carica di dire ok sentiti a casa e sii te stesso ok Adriana grazie andiamo un attimo al telefono perché c'è qualcuno che ci aspetta pronto buonasera sono Caetano da Napoli sì volevo dire Nathan è proprio vicino di diciamo come posto in Brasile rispetto a Juan Jesus volevo dire che sono d'accordo con Bosco che ha un grande carattere il nostro allenatore Cassi ed è un grandissimo allenatore e poi tanti pseudotifosi che dovremmo sostenere sempre di più il Napoli cioè lui ha dimostrato con tutti i rispetto che abbiamo di uno scudetto voglio dire eccetera che comunque il gioco di Spalletti ora è molto prevedibile quando marchi le persone eccetera lui ha dimostrato di non temere nessuno anche il signor Rosimena praticamente che noi abbiamo un grandissimo centravanti che si chiama Cio Lido e si chiama Raspadoni cioè che hanno fatto da soli e che ha sostituito i Spalletti solo per necessità lui invece sostituisce all'occorrenza Guardiaschera è uno che è di ferro è come allenatore e comunque bisogna sempre amare il Napoli bisogna sempre io ho sostenuto il Napoli di Giappella di Nicio ho visto tutti i Napoli anche peggiori ma comunque grandi Napoli quindi come fanno nelle altre parti e anche i giornalisti devono sostenerlo sempre di più perché questo Napoli arriverà in atto perché abbiamo un grande allenatore che comunque va avanti e non se ne frega di nessuno il signor Rosimena è stato sospituito stasera è un grandissimo però abbiamo dimostrato di avere un grande centravanti argentino chiama la maglia e comunque abbiamo altri giocatori è il gruppo che va avanti per questo allenatore non ci mediciamo che ha allenato Totti che ha allenato a cosa anche i giornalisti devono capire che Spalletti con il rispetto si è fatto vincere ma comunque lui ha il coraggio di cambiare di impostare il suo gioco ed è difficile prendere questa idea di uno spogliatoio con una società che molto volte non lo sostiene io dico che il Napoli andrà lontano io lo sostengo da sempre è uno che è forte come carattere è un lancio aburicione è stato criticato che ha sostituito con quel giovane eccetera ma comunque non ha paura di nessuno anche Zerbino eccetera quando non stanno in condizione mi fa capire ok scusami se ti interrompo ma abbiamo Garzia perdonami ah c'è Garzia sì ben trovato da chi vogliamo cominciare da lei che sorride che mi sembra la più dolce a controbattere no a me è piaciuto nel senso che ha sottolineato Garzia il gruppo il miglioramento corale che c'è stato in tutta la squadra e si è tra virgolette sotto insomma tono si è preso i meriti di questo miglioramento assegnando anche ovviamente i meriti alla migliore ritrovata tenuta fisica dei giocatori perché va sottolineato se riescono a fare 80 minuti a questi livelli è perché stanno entrando anche in una forma fisica ottimale appena iniziata la conferenza stampa ha puntualizzato la situazione di Osibenna ancora prima di aspettare una domanda quindi ha messo subito le cose in chiaro l'ho visto molto tranquillo e soprattutto la cosa che mi è piaciuto è il senso di continuità che ha voluto dare nel senso di dire ok stiamo facendo bene abbiamo fatto bene ma adesso dobbiamo pensare non dobbiamo crogiolarci perché non è successo niente di particolare dobbiamo pensare subito alla prossima partita che è quella del Lecce quindi io spero che veramente il senso di questa vittoria sia semplicemente un punto di partenza per quello che lo è credo che Salvatore invece mi sono piaciute due cose che ha detto che a Bologna ha giocato bene come ha giocato oggi e che a Bologna è mancata la fortuna che c'è stata oggi oggi Napoli ha giocato a calcio non deve essere arrogante quando vince le partite così come deve essere umile quando le perde perché poi è sotto gli occhi di tutti che il Napoli non ha giocato da Napoli perché le qualità di alcuni calciatori stasera si sono visti perché gli ha dato la possibilità di esprimersi vedi Politano per esempio a Bologna Politano non ha giocato nel primo tempo ha fatto giocare Raspadori in una posizione non sua così come Amadire Cristian Bosco che non è neanche quella di centravanti ma è quella di sottopunta o di mezzala io credo che il Napoli abbia deciso di fare il Napoli a prescindere dai dettami tattici dell'allenatore che sicuramente sono ottimi che sicuramente o molto probabilmente faranno vincere ancora meglio il Napoli però il Napoli oggi ha fatto il Napoli perché ci voleva la scossa lo diceva Iezzo e lo confermo il Napoli chiunque avesse incontrato oggi avrebbe stravinto la partita quindi mi auguro che Garzia non alzi la testa non faccia il pavone perché poi alla prima sconfitta mi auguro di no il più lontano possibile che non arrivi più poi deve pagare le pene però Salvatore è stato paradossalmente più umile oggi che in altre conferenze quando voleva cacciare il foglietto dalla tasca che noi siamo la squadra che possesso palla che tiriamo più in porta ma non vinci allora mi voglio concentrare sulla strategia comunicativa che mi è piaciuta molto no a me è piaciuta tanto tu sei nel partito Cassiano è normale ma io me lo aspettavo più serafico e diplomatico invece lui ha fatto i complimenti alla squadra poi dice adesso però vi do dei dati quando ha detto lui che voleva cacciare il foglietto che sono dati oggettivi e quindi ha confermato la sua verba il suo carattere anche in questo post gara in questa comunicazione per dire abbiamo appianato quello che c'era da appianare la squadra adesso sta cominciando a girare fateci lavorare stato perfetto Giezzo a me mi è piaciuto sul fatto che sicuramente c'è quella voglia di andare a vincere a Lecce a caricare la squadra e a caricare l'ambiente qualcosa di diverso l'abbiamo visto tra Bologna e la partita di stasera nel primo tempo a Bologna abbiamo fatto una buona cara ragazzi stasera è ricorto forte aggressivo poi la differenza del possesso palla oggi il Napoli il possesso palla l'ha fatto nella campo avversaria e c'è differenza parlo nel girare palla dietro davanti alla tua porta oppure parlo in una zona del campo dove tu come stasera con gli inserimenti dei centrocampi sei fatta la differenza vabbè io vorrei solo svegliare Salvatore Turco per i saluti attento come sempre scusatemi no ma si è fatta quell'ora stiamo parlando a conferenze no non voglio nessuna della pietanza no no io chiuso a volo perché sono preoccupato voi mentre parlate Garzia il 7 Coppa all'Instagram Rosimena ancora su Facebook pare abbia scritto ma comunque visto che si parla Instagram Napoli che storia benissimo io mi perdono un applauso allora a questo punto e chiudiamo siamo pronti per chiudere ci vediamo quando gioca il Napoli quando gioca il Napoli il 30 settembre quindi sabato dalle 14 in poi noi saremo qui a quando gioca il Napoli ringraziamo tutti i nostri partner a partire da Euronics Gruppo Tufano i prezzi più bassi di sempre altrimenti ti rimborsiamo Facile Rent il noleggio sommisura per te Cenamo Arredamento se puoi sognarlo puoi averlo Querto Svago il franchising numero uno in Italia Bernese qualità eleganza e tendenza DTF Italia nuovi sistemi energetici riscaldamento e climatizzazione grazie a chi ha fatto quando gioca il Napoli con noi grazie a Salvatore Cagliazza Salvatore Turco Buonanotte Adriana Buonanotte Cristian Bosco Gennaro Jezzo grazie a Patrizio Rispo e a Tania Lagatta grazie buonanotte ci vediamo sabato ciao